UFFICIALI PRONTI UFFICIALI PRONTI FACCIAMOLO Catturare l'area A Catturare l'area B Versagli nemici avvistati La squadra nemica ha catturato l'area La nostra squadra ha catturato l'area Ricarica veloce attivata Ricarica veloce attivata Ricarica veloce attivata La squadra nemica ha catturato l'area La nostra squadra ha catturato l'area Già ne ho colpito La squadra nemica ha catturato l'area Ricarica veloce attivata Bersaglio colpito! La nostra squadra ha catturato l'area! Bersaglio befforato! Siamo sotto attacco! Ottimo lavoro! Ricarica veloce attivata! Abbiamo colpito il nemico! Nemico pesantemente danneggiato! Mira precisa attivata! Per colpo! Ben colpo! Ottimo lavoro! Siamo sotto attacco! La nave va a fuoco! Siluri nemici avvistati! Ci hanno colpito! Abbiamo colpito il nemico! La nostra squadra ha catturato l'area!